La pista ciclopedonale che unisce via Sografi con via Canestrini è la protagonista delle cronache recenti quando si parla di tram e ora la diventa in negativo anche parlando dell'erba, nel senso che il percorso della linea del tram in via di progettazione dovrebbe interessare proprio questo tracciato, lungo il quale viaggiano ogni giorno centinaia di ciclisti e di pedoni. Nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione però ai lati della pista la situazione è questa, erbacce altissime e l'impossibilità di utilizzare gli spazi verdi per bambini e cani, uscire dalla strada sterrata che costituisce la pista è improponibile. Sinceramente preferirei una città un po' più curata dal punto di vista del verde, io questa pista la faccio tutti i giorni, è veramente un piacere farla, è un peccato vedere che l'erba è così alta e che nessuno provveda velocemente a sistemare. Il tragitto è piuttosto lungo, da via Sografi si arriva fino al ponte di Volta Barozzo incrociando scuole, asili e impianti sportivi. La trovo strano, di solito lo fanno, vabbè dai lo faranno più avanti spero. Guarda di là, quella flora spontanea e dopo si sparpaglia dappertutto. Quando vanno i cani là, chi sarà? Non si vede, è nascosto. Senza contare le insidie per chi soffre di allergie. L'assessore Gallani fa sapere che il piano di sfalcio procede regolarmente e che l'estate è arrivata troppo all'improvviso. Viaggiando per la città comunque, l'impressione è che questa situazione sia generalizzata e che quindi il piano di intervento dovrebbe essere di molto potenziato. I bambini poi loro sono così un po' come degli animaletti, amano la natura ed è giusto anche che possano andare nel verde.